Buongiorno, il titolo è senza parole perché le parole che usiamo appartengono a mondi che non ci sono più e però continuiamo ad usarle e usandole non stiamo descrivendo il mondo attuale. Usiamo parole che sono nate in Grecia e nella tradizione giudaico cristiana, sono due scenari completamente diversi, però entrambi hanno costruito un ordine, un orientamento, un percorso nella vita dell'uomo, un orizzonte di senso. Questo orizzonte di senso per i greci era calibrato sulla natura, con lo sfondo immutabile che nessun uomo o nessun dio fece. Il tempo era ciclico, misurato sulla natura, inverno, primavera, estate, autunno e chi aveva visto tanti cicli, gli anziani, erano in grado di insegnarlo ai giovani che ne avevano visti pochi. Il greco concepiva l'uomo come un mortale, gente seria. Avevano due parole per dire uomo, antroposianer, non li usano quasi mai, usano la parola sanetos, mortale. E questo consente al greco di fondare un'etica potentissima che è l'etica del limite. Perché se sei mortale non puoi avere desideri infiniti. L'etica del limite è alla base della felicità per il greco. La felicità consiste nel realizzare se stessi, il proprio demone, ciò per cui sei nato, la tua virtù, la tua qualità. E quando la realizzi bene, eo, raggiungi l'eudaimonia. Eo in greco vuol dire buono, daimon, la buona realizzazione del tuo demone, della tua qualità, della tua virtù. Però il greco aggiunge subito devi realizzarla ma a secondo misura. Magari sei un bravo scultore, ma se pretende di essere più bravo di Fidia, prepari la tua rovina. I greci avevano incatenato Prometeo il Dio della tecnica. Noi l'abbiamo scatenato. Questo mondo non esiste più. E' tantomeno il messaggio, l'etica di questo mondo che è l'etica del limite. E' un mondo che non esiste più perché è sopraggiunta la tradizione giudaico-cristiana che ha detto agli umani voi non morirete mai. Questo è stato il colpo di genio del cristianesimo. A questo punto è subentrato un altro scenario, quello cristiano, che visualizza la natura non più come uno sfondo immutabile che nessun uomo, nessun Dio fece, ma come una creatura di Dio e perciò buona. Dopo ci sono alcuni disastri naturali, ma questi sono problemi che devono risolvere i cristiani. Buona e viene consegnata all'uomo nella configurazione del dominio. Dominerai sugli animali della terra, sui volatili del cielo, sui pesci delle acque marine. Dominerai. E qui comincia quella cultura antropocentrica dove l'uomo, i mago dei, immagini di Dio, all'uomo è consegnata dalla natura per il suo dominio. Questa cultura non è morta ancora oggi, anzi è la causa dei nostri disastri. Il cristianesimo poi concepisce il tempo come diviso in tre momenti. Il passato è male, il peccato originale, il presente è redenzione, il futuro salvezza. La scienza, che con le nostre idee sbagliate pensiamo si opponga alla religione, è profondamente cristiana. Pensa che il passato sia ignoranza, il presente ricerca, il futuro progresso. Cristianesimo laicizzato. Anche Marx è un grande cristiano. Il passato è negativo, ingiustizia sociale, il presente far esplodere le contraddizioni del capitalismo, il futuro giustizia sulla terra. Anche Freud, che scrive un libro contro la religione, l'avvenire di un'illusione, pensa che traumi e nevrosi siano nel passato, quindi negativa, presente terapia, futuro guarigione. Tutto è cristiano in occidente. E quindi le distinzioni tra ati, credenti, agnostici, eccetera, non valgono niente. Perché tutti pensano nella modalità che il futuro sia una promessa e che il futuro porti rimedio al passato, ai mali del passato. Non è vero. Non è vero. Questa cultura che ci accomuna, perché noi siamo tutti cristiani, anche se non lo sappiamo, e ogni volta che usiamo la parola speranza stiamo parlando in maniera cristiana, e ne parlano anche gli ati di speranza. Quando sentiti politici che dicono speriamo, auguriamoci, auspichiamo, stanno usando tutte queste parole che io definisco parole della passività. stiamo fermi, il futuro porterà rimedio. Non è vero. Quindi queste parole vanno eliminate. Anzi, la parola speranza, già Pasolini l'aveva tolta dal suo vocabolario, giustamente. Questo scenario, questi due scenari, che però avevano dato un ordine del mondo, lo scenario greco, lo scenario cristiano, vengono smantellati nel 1500. Incomincia Copernico a dire che la Terra non è al centro dell'universo, ma non è il Sole a girare intorno alla Terra, ma è la Terra a girare intorno al Sole. Quindi comincia a diventare un po' periferica questa nostra Terra. Il corpo di Grazia lo dà la scienza moderna, inaugurata da Cartesio. Cartesio dice, non dobbiamo fare come i greci che contemplavano la natura, nel tentativo di catturarne le leggi, onde costruire una città secondo natura e la conduzione della vita secondo natura. Noi scienziati, noi scienziati, dobbiamo formulare delle ipotesi, sottoporre la natura a esperimento, e se l'esperimento riesce, assumeremo le nostre ipotesi come leggi di natura. Capovolgimento del mondo. Canta ne parlerà come di una rivoluzione copernicana, e citando due italiani che sono Galileo e Torricelli, dice che con loro l'atteggiamento dell'uomo nei confronti della natura non è più stato quello dello scolaretto che impara tutto quello che dice il maestro, la natura, ma è quello del giudice che obbliga l'imputato, la natura, a rispondere alle sue domande. A questo punto, dice Cartesio, l'uomo diventa maître et possesseur du monde, signore e padrone del mondo. Quindi si è realizzato quello scenario che era nell'ordine di Dio. Dominerai, ma questa volta siamo capaci di dominarlo, con le anticipazioni scientifiche verificate dall'esperimento. Diventa reale quello che prima era solo immaginario. Si apre l'età moderna. L'età moderna incomincia a scricchiolare nell'Ottocento, quando Darwin ci dice che l'uomo non è tanto i mago dei, quanto il prodotto di un'evoluzione da animali inferiori. Quando Freud ci dice che la coscienza non è autonoma, ma razionalizza pulsioni inconsce. Con Nietzsche che dice sono alla ricerca di un filosofo medico, nel senso eccezionale della parola, per la salute di un popolo, di una razza, dell'umanità, che sappia portare al culmine il mio sospetto, che in ogni filosofare non si è mai discusso di verità, ma unicamente di avvenire, sviluppo, potenza, vita. Quindi la verità viene sottomessa, viene subordinata alla vita. Possiamo dire delle verità, alla sola condizione che ci servono per vivere. Quindi è la vita il soggetto, non la verità. Qui comincia a crollare l'età moderna, che riceve il colpo definitivo dalla fisica del Novecento. Con Ernst Mack, che stabilisce che non esiste uno spazio assoluto, quello che Newton riteneva fosse addirittura sensorium dei. Con Hilbert, che dice che la matematica tradizionale non serve per conoscere la fisica subatomica, bisogna ricominciare a ritrattare i fondamenti della matematica. Con Planck, che fonda la fisica quantistica, mandando in soffitta la fisica galileiana. Con Einstein, che stabilisce l'equivalenza tra materia ed energia. Con Heisenberg, che stabilisce che non è possibile identificare la collocazione di una particella subatomica, perché le condizioni per osservarla ne modificano la collocazione. Qui, l'età moderna, trova la sua negazione. E il suo ideale, che suonava chi pensa bene fa il bene, ha trovato la sua smentita nel nazismo, che ha dimostrato che si può pensare in maniera eccellente anche il male. fine dell'età moderna. Fine dell'età moderna e inizio dell'età post-moderna, che io chiamo età della tecnica, dove noi abitiamo attualmente. L'età della tecnica, con la parola tecnica, dobbiamo pensare alla più alta forma di razionalità mai raggiunta dall'uomo. Una razionalità che si lascia formulare in un'espressione molto semplice, raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. È una razionalità che la tecnica è in comune col mercato, ma il mercato la ospita in maniera impura, perché conserva ancora una passione umana che è la passione per il denaro, da cui la tecnica è del tutto esonerata. Se questa cultura, i cui valori sono efficienza, produttività, funzionalità, velocizzazione del tempo, che ha già superato la nostra capacità psicologica temporale, allora l'uomo esce dalla storia, perché viene eliminata tutta la sua dimensione irrazionale. E noi siamo uno diversi dall'altro per la qualità della nostra irrazionalità. Irrazionale è il dolore, l'irrazionale è l'amore, irrazionale è l'idealizzazione, l'ideazione, la fantasia, il sogno. Tutto questo deve uscire fuori dal discorso, perché per la tecnica sono solo elementi di disturbo. La tecnica, e qui smobilitiamo un'altra idea arcaica che abbiamo nella testa, senza riuscire mai a convincere nessuno, la tecnica non è un mezzo, non è più un mezzo. La tecnica è un mondo. È un mondo che cosa significa? Significa che che la tecnica non dischiude un orizzonte di senso, non apre scenari di salvezza, non dice la verità. La tecnica funziona, e il suo funzionamento è diventato universale. nel 1966 Martin Heidegger, interrogato dal direttore di Der Spiegel, che lo interroga sulla tecnica, gli chiede cosa ne pensa della tecnica, professore, Heidegger risponde, che funziona, tutto funziona. E questo funzionare induce ad un ulteriore funzionare. Non so se lei è stata impressionata quando gli uomini sono sbarcati sulla Luna, dice Heidegger al direttore. Io, dice Heidegger, sono stato molto impressionato. Non abbiamo bisogno della bomba atomica per sradicare l'uomo dalla Terra. L'uomo è già sradicato, non abita più la Terra, abita unicamente la tecnica. 1966. Non c'era ancora l'informatica. Poi eliminiamo pure la filosofia dalla scuola, tanto non serve a niente, così la gente diventa sempre più stupida e capirà sempre meno che cosa sta vivendo e l'epoca che sta vivendo. Poi, questo concetto, tra le altre cose, era già stato sviluppato da Hegel due secoli, nel 1816, in un libro di logica, Hegel dice due cose molto importanti. La prima, la ricchezza delle nazioni non è costituita dai beni, come aveva detto 40 anni prima Adam Schmidt, che aveva scritto il primo libro di economia politica sulla origine e la natura della ricchezza delle nazioni. Lui dice, d'anni in avanti la ricchezza non sarà costituita dai beni, perché i beni si consumano, ma sarà costituita dagli strumenti, perché gli strumenti continuano a produrre beni. Quindi aveva già intuito l'età della tecnica, 1816. Ma quando dico Hegel chissà che cosa dico, vorrei sapere quanta gente sa questo nome, visto il livello culturale a cui siamo arrivati, in una grande depressione culturale. Poi dice un altro argomento ancora più forte, dice sempre Hegel, quando un fenomeno aumenta quantitativamente, non abbiamo solo un aumento quantitativo di quel fenomeno, ma abbiamo anche un mutamento qualitativo radicale del paesaggio. Se qui viene un terremoto di due gradi della scala Mercalli, neanche ce ne accorgiamo, se viene un terremoto di nove gradi della scala Mercalli, cambia il paesaggio radicalmente, questa piazza diventa un cumulo di macerie. Quindi l'aumento della quantità determina la variazione della qualità del paesaggio. Ora, prima di applicare questo argomento è stato Marx, il quale dice tutti pensano che il denaro sia un mezzo che ha come scopo soddisfare i bisogni e produrre i beni, ma se il denaro aumenta quantitativamente fino a diventare la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo, il denaro non è più un mezzo ma il primo scopo per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e in che misura produrre i beni. Abbiamo quello che in filosofia si chiama eterogenesi dei fini, quelli che quando il denaro era poco erano fini, quando il denaro aumenta diventa la condizione per realizzare tutti i fini, il fine diventa il denaro e gli altri diventano mezzi per produrre denaro. Se applichiamo questo argomento alla tecnica, se la tecnica è la condizione universale per realizzare qualsivoglia cosa, la tecnica non è più un mezzo ma è il primo scopo che tutti vogliono e tutto il resto viene subordinato alla tecnica. Cosa succede a questo punto? Che la tecnica mette in moto un cambiamento così radicale del mondo che vi illustro solo per sommi capi perché sennò non arriviamo più al centro del nostro discorso. La tecnica mette in crisi radicalmente la politica. La politica è stata inventata da Platone che la chiamata basilica è tecnica reggia perché mentre le tecniche sanno come si fanno le cose la politica decide se e perché si devono fare. Quindi ha il monopolio della decisione. Oggi la politica non è più il luogo della decisione perché la politica per decidere guarda l'economia l'economia per decidere guarda le risorse tecnologiche. Allora si è spostato tutto nella tecnica ma non ce lo dimentichiamo la tecnica non ha scopi non ha orizzonti di senso non dischiude scenari di salvezza la tecnica ha un solo obiettivo potenziare se stessa. Direi si potrebbe dire quello che Nietzsche diceva della volontà di potenza cosa vuole la volontà di potenza vuole se stessa la tecnica vuole il suo autopotenziamento a prescindere. La tecnica mette in crisi anche la democrazia ovvio perché in una società complessa come la nostra la tecnica butta sul tavolo problematiche che oltrepassano la competenza media di ciascuno di noi. Se facciamo un referendum se aprire o chiudere le centrali nucleari io dovrei essere per essere razionale nella mia scelta dovrei essere un fisico nucleare. Se dobbiamo decidere se accettare o meno gli organismi geneticamente modificati per essere all'altezza di una scelta razionale dovrei essere un genetista o un biologo molecolare ma siccome non sono nell'una e nell'altra cosa come faccio a decidere su base irrazionale prendo una decisione perché ho una fede ascolto quello che dice il Papa oppure appartengo a un partito ascolto quello che dice il capo del mio partito oppure non ascolto ne uno ne l'altro però quel signore lì che va in televisione a me mi piace faccio come dice lui questa è la base del populismo una democrazia ridotta a scenari caratterizzati da fascinazione da effetti retorici da chi ti offre una semplice formula che ti sembra risolutiva quando in una società complessa non ci sono formule risolutive tantomeno semplici su questo lavora il populismo il quale populismo si fonda sostanzialmente sull'ignoranza totale della popolazione per cui complice del populismo è il livello molto basso di cultura e l'andamento spaventoso della scuola serve al populismo tutto questo noi potremmo scegliere se noi facessimo riferimento a quella classe intermedia di competenti nell'epoca del covid erano gli epidemiologi e i genetisti avete visto che fino a patto come li hanno massacrati perché uno diceva una cosa diversa dall'altra ma sapete cos'è la scienza che io anticipo un'ipotesi il nostro sindaco anticipa un'altra ipotesi la dottoressa anticipa un'altra ipotesi si parte da ipotesi diverse si sottopongono esperimento se non riesce l'esperimento si rinuncia all'ipotesi quando riesce nasce la scienza che è un sapere oggettivo valido per tutti la cui sperimentazione è riproducibile ovunque da chiunque col medesimo risultato ha una bella forza la scienza no? no, però ci sono i no-vax quelli che preferiscono le loro opinioni capite come funziona il populismo? poi l'etica sta ancora peggio è molto semplice come fa l'etica dire la tecnica che può di non fare ciò che può può implorare può chiedere sommessamente ma la tecnica può come fa a impedirglielo? abbiamo avuto tre etiche in occidente l'etica cristiana che è l'etica dell'intenzione è stata una grande etica pensate che ancora oggi tutto l'ordine giuridico non so se gli avvocati e i magistrati lo sanno si fonda sull'etica cristiana per fare peccato mortale recitavo il catechismo quando io lo frequentavo ma lo recito ancora oggi devi avere piena avvertenza e deliberato consenso cioè devi sapere quello che fai e devi volerlo fare oggi quando tu compri un delitto devi essere in grado di intendere e volere piena avvertenza e deliberato consenso cristianesimo puro poi se l'hai fatto ma non volevi farlo allora non sei colpevole ma il tuo delitto è colposo oppure intenzionale oppure preta l'intenzionale le sentite queste parole tutta roba cristiana l'etica dell'intenzione ma come si fa a indagare cosa passa dentro in un uomo e che utilità ha quest'etica nell'età della tecnica nessuna molto più interessante non è interessante sapere che intenzione aveva Oppenheimer o fermi quando hanno inventato la bomba atomica molto più interessante sapere gli effetti della bomba atomica l'altra etica che è stata inventata in occidente è quella di Kant Kant giustamente dice siccome le etiche le deduciamo dalle religioni e le religioni sono tutte diverse dobbiamo costruire un'etica che si fonda sulla pura ragione proposito bellissimo solo che sintetizza questa etica in quella frase bellissima l'uomo va trattato sempre come un fine e mai come un mezzo non si è mai realizzata quest'etica se viene un immigrato da noi il fatto che sia un uomo non è interessante se diventa un mezzo di profitto allora sì è interessante quindi su questo siamo arrivati ma a parte questo Kant non si accorge che dicendo che l'uomo va trattato sempre come un fine e mai come un mezzo non sta facendo altro che riprodurre l'etica cristiana perché perché concepisce l'uomo al vertice del creato i mago dei e tutte le altre cose se l'uomo è trattato come un fine tutto il resto cos'è? un mezzo? nell'età dell'atenica l'aria è un mezzo o è un fine da salvaguardare? l'acqua è un mezzo o è un fine da salvaguardare? e la fauna e la flora e l'atmosfera la biosfera sono tutti mezzi? eh no ma abbiamo un'etica che si sia fatta a carico degli enti di natura? mai neanche una perché tutte le etiche formulate in occidente si sono limitate a garantire la pace all'interno della comunità e basta e al confine era già sospetto diffidenza guerra ma non si è mai fatta a carico degli enti di natura faccio presente che perché un'etica funziona è necessario che il principio etico diventi inconscio collettivo se io stupro una ragazza ho immediatamente la riprovazione generale di tutti voi se inquino non ho la stessa riprovazione quindi quest'etica deve ancora entrare nella nostra psiche c'è una terza etica l'etica formulata da Max Weber più grande sociologo del novecento morto un secolo fa esatto tornò al 1920 che ha introdotto l'etica della responsabilità dice che l'etica cristiana delle intenzioni non funziona nell'età della tecnica funziona l'etica della responsabilità rispondi delle tue azioni però è troppo intelligente apre una parentesi finché le azioni sono prevedibili ma è proprio della tecnoscienza produrre effetti imprevedibili perché non so cosa pensate come funzioni la scienza fa bene faceva bene veronesi a dire abbiamo un obiettivo la cura del cancro datemi soldi così ci mettiamo a cercare la cura del cancro non funziona così la scienza fa bene dire così perché sa che tutti quanti noi con la mentalità limitata che abbiamo è degradata dalla scienza dalla cultura pensiamo in modo finalistico ma non funziona così la scienza la scienza funziona in questo modo io studio questa cellula per 15 anni tu studi questa molecola per 20 anni tu studi questo neurotrasmettitore per 12 anni se da queste ricerche che non sono 3 ma 300 mila al mondo salta fuori qualcosa di positivo bene caso diverso abbiamo perso tempo quindi quelli che noi chiamiamo fini della scienza sono risultati di procedure casuali e sotto questo profilo gli effetti non sono prevedibili non sono prevedibili e oggi noi ci troviamo in quello scenario spaventoso dove la dove la nostra capacità di fare è enormemente superiore alla nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare quindi ci muoviamo a mosca cieca e se l'imprevedibile che era l'angoscia dei preventivi era dovuto a un difetto di conoscenza l'imprevedibile per noi è dovuto a un eccesso del nostro fare rispetto alla capacità di prevederne gli effetti questo è per noi l'imprevedibile ci muoviamo a mosca cieca e a questo proposito giustamente Heidegger ci dice inquietante non è che il mondo si trasformi in un unico enorme apparato tecnico ancora più inquietante è che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo ma ancora più inquietante siamo al terzo grado di inquietudine è che non abbiamo un pensiero alternativo al pensiero capace solo di far di conto calcoli calcoli economici calcoli tecnici non abbiamo un pensiero alternativo ragioniamo tutti così quando si è cominciato a ragionare così e quando incomincia l'età della tecnica incomincia io seguo qui l'affermazione di un allievo di Heidegger e tale Gunther Anders ebreo scappato in America andato a lavorare alla Ford per guadagnarsi il pane che scriveva al suo maestro maestro lei mi ha insegnato che l'uomo è il pastore dell'essere io qui alla Ford sono il pastore delle macchine nel rapporto uomo-macchina la guida è già passata alla macchina lo scriveva alla fine degli anni 30 bene lui dice che l'età della tecnica è nata dal nazismo io sono d'accordo con lui è nata dal nazismo e il nazismo ha dato l'imprinting all'età della tecnica il modo di essere di vivere nell'età della tecnica è stato specitato dal nazismo non sto a fare tutti i ragionamenti che fa Gunther Anders porto solo un esempio molto rapido Gitta Sereni una giornalista ungherese naturalizzata inglese ha intervistato il capo del campo di concentramento di Treblinka tale Franz Stangle e gli ha chiesto cosa per 70 volte nelle sue 70 interviste oggi pubblicate da Adelphi gli ha chiesto per 70 volte cosa provava a fare quello che faceva e la risposta di Franz Stangle non viene a un certo punto Gitta Sereni viene un'illuminazione vuoi vedere che lui non risponde non perché si vergogna ma perché non capisce la domanda e infatti Franz Stangle risponde e dice ma scusi perché mi fa questa domanda cosa provavo io qui non ero incaricato di provare qualcosa io ero incaricato di far funzionare il sistema e se il sistema prevedeva la soppressione di 5.000 persone alle 11 del mattino e 3.000 alle 5 del pomeriggio e l'indomani tutto doveva essere ripulito per ricominciare con questo ritmo io che ero bravissimo nel mantenere questo ritmo ero un ottimo funzionario nell'età della tecnica questa è la regola fate un po' riflessione dove andate a lavorare supponete che un capo area di una banca di che i suoi funzionari dobbiamo smaltire tutti i titoli ammalorati che abbiamo in banca vendeteli a chi non se ne intende di economia vuole investire il funzionario può provare qualcosa e poi provi a non venderli perder posto quando voi andate in ospedale vi si aprichano i protocolli vero? io ho sentito un congresso di medicina molto importante che i pazienti si collocano in una curva di Gauss curva di Gauss vuol dire un semicerchio così quelli che sono in mezzo e sono in più se applico il protocollo funziona quelli che sono all'inizio se sono alla fine applico il protocollo e l'ammarsi allora io sono un medico che vedo che questo qua non è proprio nel mezzo ma è più vicino all'inizio alla fine della curva di Gauss allora non applico il protocollo e vedo di applicare altre strategie magari lo guarisco ma magari muore se muore questo medico va nei guai perché non ha applicato il protocollo se invece il medico che applica il protocollo vede che questo qui non è proprio al mezzo ma proprio all'inizio alla fine però lui applica il protocollo il paziente muore ma lui ha posto ha applicato il protocollo i signori professori che vanno in classe e svolgono perfettamente i programmi ministeriali alla fine dell'anno bravi hanno applicato il protocollo i professori invece che parlano con gli studenti perdono un po' di tempo per capire quello che succede in quell'età incerta che si chiama adolescenza e magari non finisce il programma ministeriale corre dei guai quando io vado a pagare le bollette in posta perché non sono capace di pagarle online vedo che ci sono delle vecchiette che chiedono alle impiegate delle informazioni e devo dire che là dove vado io le impiegate sono molto gentili cercano di spiegare il più possibile poi a un certo punto si fa la coda e allora dicono devono chiudere il discorso e dicono a queste vecchiette sì signora però devo dirle una cosa che quello che mi chiede è fuori dal mio mansionario Franz Stankl capito che devo dire essere nell'età della tecnica diventare funzionario di apparato dove ciò che fai non è importante è importante come lo fai se stai costruendo le mine anti uomo e su 100 che ne fai 99 fa saltare per aria sei un bravo operaio ma se ne saltano solo 50 non sei un bravo operaio avete visto dove si sposta il bene e il male non sulla cosa che fai questa è di competenza dell'apparato tu devi semplicemente compiere le azioni descritte e prescritte dall'apparato e se sei bravo se le compi bene in modo efficiente produttivo veloce questa è l'età della tecnica lasciamo l'età della tecnica ed entriamo in una sorta di spaesamento spaesamento perché? perché l'individuo ha un'identità che non è neanche più la sua pace il suo volto ciò che è perché l'identità gliela dà l'apparato se gli fa un aumento in carriera hai un aumento di identità se ti fanno il mob hai un decremento di identità una demotivazione una depressione al limite anche il gesto estremo la tua identità è un dono sociale questa è una grande verità ma noi questo dono sociale l'abbiamo trasferito all'apparato al ruolo che noi svolgiamo la verità non è più la contemplazione di un ordine la verità è ridotta pure semplice efficacia se un'azione riesce è vera se non riesce è falsa è l'efficacia che misura la verità non l'ordine è la conformità a quell'ordine le ideologie tutti quanti diciamo che sono crollate le ideologie perché perché un'ideologia sta in piedi se c'è la tecnica che la sostiene quando l'Unione Sovietica nel 1960 ha lanciato il primo Putin nello spazio quando gli americani non erano ancora in grado il fine l'egemonia del comunismo poteva diffondersi e rimanere ma quando nel 1989 la tecnica americana era infinitamente inferiore a quella del suo antagonista la tecnica sovietica era infinitamente inferiore a quella a quella americana tant'è che Gorbachev andò a pregare Reagan di non fare lo scudo stellare perché l'Unione Sovietica non avrebbe avuto una contromisura adeguata a quel punto il fine l'egemonia del comunismo crolla quando crollano i grandi sistemi non è andato a cercarli nel fatto che la gente aveva fame non poteva uscire dai propri confini oppure l'ha perseguitata osservata oppure perché c'era un papa anticomunista ma andatemi a cercare queste spiegazioni umanistiche quando succedono i cataclismi le spiegazioni sono ben più sotterranee ben più telluriche il problema è la potenza tecnica se c'è la potenza tecnica allora può mantenere il tuo fine altrimenti no questo le religioni poveretti anche loro vanno male perché la religione ti obbliga ad avere un pensiero a lungo termine un pensiero che va anche al di là della vita perché il cristianesimo ti ha promesso che c'è una vita eterna hai un pensiero escatologico alla fine del mondo vedrai il senso della tua esistenza oggi la tecnica ci ha abituato a un pensiero breve alla breve distanza che c'è tra il mezzo e il fine se io ho i soldi ma non ci sono case da comprare quei soldi non sono un mezzo per comprare le case e se io invece ho invece le case ci sono ma non ho i soldi per comprarlo quelle case non sono un fine per me perché non ho i mezzi allora la tecnica ti abitua al pensiero breve recente passato immediato futuro e questo viene interiorizzato da noi diventa un po' il nostro modo di pensare quel Denkenass Recknen di cui parlava Heidegger quel pensiero come calcolo e allora la religione che ha questi pensieri lunghi che vanno al di là del tempo non sono più percepiti da noi e quindi abbiamo un crepuscolo della religione ma soprattutto abbiamo una fine della storia una fine della storia che è determinata dal fatto che la storia esiste quando gli avvenimenti sono iscritti in un orizzonte di senso la tecnica non ha una memoria storica la tecnica ha una memoria procedurale per lei il passato è semplicemente il sorpassato e il futuro è semplicemente un potenziamento delle procedure tecniche non c'è una raccolta degli avvenimenti in un orizzonte di senso non c'è senso c'è sviluppo e giustamente Pasolino distingueva lo sviluppo dal progresso progresso è il miglioramento delle condizioni umane lo sviluppo invece è il potenziamento della strumentazione tecnica bene a questo punto non avendo un etico che sia all'altezza dell'accadere tecnico dobbiamo cominciare a pensare ad un'etica diversa ad un modo diverso di essere al mondo e questo modo diverso di essere al mondo io l'ho chiamato l'etica del viandante dunque il viandante non è il viaggiatore il viaggiatore ha in vista la meta la distanza che c'ha tra il punto di partenza e il punto di arrivo per lui sono interluoghi di nessun interesse a lui interessa la meta da raggiungere la patria ritrovata la vita realizzata la stabilità raggiunta al viaggiatore il viandante non ha scopi lui cammina non ha scopi da raggiungere né scopi escatologici a lungo termine né mete da raggiungere durante il cammino lui cammina per fare esperienza noi non facciamo più esperienza del mondo perché guardiamo il mondo nei nostri strumenti tecnologici che non è il mondo ma il mondo che ci è fornito da loro una volta ho voglia di fumare una sigaretta in tasca sono andato a un tabaccaio sono uscito ma non avevo l'accendino ho chiesto a due ragazze che mi avevano interpellato avete un accendino no mi hanno detto guarda che però là c'è una ragazza al bar che sta fumando vado là chiedo un accendino me lo tira non perché fosse maleducato ma perché stava guardando il telefonino io glielo restituisco chiedo a questi due ragazzi ma voi non guardate più infatti in pace alla gente e no caro professore noi guardiamo così noi guardiamo così allora il viandante si muove per fare esperienza incontra il prossimo sempre meno specchio di sé e sempre più altro e quindi è costretto a fare i conti con la differenza come noi a nostro tempo siamo stati costretti a farla con la proprietà il territorio il confine la legge per lui invece la grande esperienza è l'esperienza della differenza si accorge che gli uomini sono tutti diversi ed entrare in relazioni con il diverso sarà il futuro della terra a suo parere i confini sono più nella testa degli uomini che nel disegno della terra dal suo punto di vista siamo tutti uomini di frontiera i processi migratori a cui stiamo assistendo ci fanno incominciare ad udire le storie sommerse dalla narrazione della storia occidentale vengono a raccontarci quello che noi abbiamo sepolto da sempre venendo da voi confondono i confini e inaugurano una storia che sarà nel segno della deterritorializzazione questo sarà il nostro futuro le migrazioni non sono un'emergenza è la storia eterna dell'umano è la storia eterna dell'umano però non dobbiamo intendere l'etica del viandante come una anarchica erranza il viandante ha delle cose da raccontare proprio perché percorre la terra e vede le condizioni della terra e dal suo punto di vista la terra incomincia a non essere più il centro del mondo ma sa che la terra appartiene alla periferia di un sistema solare il quale è inserito in una galassia tra le migliaia che si spostano in uno spazio smisurato cominciamo a decentrarci un po' rispetto a quel concetto che la terra è al centro dell'universo perché anche se lo sapete che non è al centro dell'universo vivete come se fosse al centro dell'universo poi il viandante sa che la vita è possibile solo in questa periferia e non col governo dell'uomo su tutte le cose ma con l'interconnessione dell'uomo a tutte le cose perché il viandante sa che per esempio gli animali si alimentano dalla fotosintesi delle piante le piante si alimentano dalla nitride carbonica emessa dagli animali le radici delle piante sono fecondate dall'azoto rilasciato dai microrganismi microrganismi piante animali uomo tengono in piedi quella pellicola sottilissima che si chiama biosfera che il giorno che si rompe o che si consuma la terra è finita la biosfera sa che le cose vanno così ora c'è quel sociobiologo che io ammiro molto che aveva scritto negli anni 90 quel bellissimo libro di sociobiologia adesso ne ha scritto uno sulla creazione in cui dice che la specie umana è diventata la forza geofisica più distruttiva di quanto possono essere distruttive gli sconvolgimenti della terra la specie umana è diventata una forza geofisica la più distruttiva ci vogliamo rendere conto di queste cose ci dicono qualcosa il buco dell'ozono il riscaldamento globale lo scioglimento dei ghiacciai l'aria l'acqua piena di infezioni i rifiuti scaricati nei fiumi nelle acque negli oceani ci dicono qualcosa o non ci dicono niente ci dicono qualcosa e non basta a questo punto sentire come si sente dire bisogna porre un limite alla tecnica bisogna porre un limite alla tecnica limitiamo l'emissione che vengono dalle macchine a scoppio dal motore a scoppio limitiamole dobbiamo fare un capovolgimento radicale dal paradigma passare dal paradigma antropocentrico che su indicazione cristiana è diventata la realizzazione e adesso la rovina dell'occidente del mondo e passare a un paradigma biocentrico dall'antropocentrismo al biocentrismo bio bio è una parola greca che vuol dire vita perché la vita appartiene alla terra ed esisteva prima della comparsa dell'uomo e continuerà a esistere dopo la sua scomparsa anzi continuerà a esistere molto meglio probabilmente ricordo per tutti quella ricordo per tutti quello che è successo quando eravamo tutti ricoverati in casa e che ci lamentavamo di questa solitudine poveretti oh signore Dio dunque quando eravamo tutti in casa a Venezia invece delle solite pantegane nei canari sono arrivati i delfini è stato sufficiente che l'uomo si astenesse per alcuni mesi dal corrompere la terra sono arrivati i delfini le pantegane sapete sono topi lunghi così va bene allora ricordiamoci di questi episodi sono piccoli segnali sono piccoli segnali e a questo punto allora se la vita se la vita esiste sulla terra anche perché dobbiamo tenere conto che oggi l'umanità si trova di fronte a una sfida che non ha mai conosciuto perché le sfide che l'uomo ha conosciuto sono sempre state le sfide nei confronti del nemico oggi ci troviamo non a difenderci da un nemico anche se una storia retrograda prosegue con la logica del nemico ma oggi il pericolo non è dal nemico ma oggi l'umanità deve difendersi da se stessa deve difendersi da se stessa e se è vero che la specie è ciò che unisce tribù etnie popoli la difesa della specie umana può avvenire solamente con la difesa della terra nostra vera e unica patria che viene molto prima della patria nativa patria nativa però perché tutto questo accade non basta proporre un'etica prontaria bisogna riuscire a realizzarla e per realizzarla c'è un passo ulteriore che dobbiamo fare quello di costruire un'etica cosmopolita l'etica cosmopolita è stata annunciata in qualche modo per la prima volta dall'illuminismo quando ha detto libertà egalità fraternità quando ha detto queste cose si è scatenato tutto il mondo cristiano questo per una reciproca incomprensione l'illuminismo non ha capito che queste tre parole erano già state annunciate dal cristianesimo libertà significa non ci sono più liberi e schiavi egalità siamo tutti figli di Dio fraternità l'amore i cristiani non hanno capito niente della libertà della fraternità e dell'egalità e si sono messi a fare una guerra che continua a tutt'oggi quella che io chiamo il conflitto di due ignoranze non si sono capiti perché? perché non hanno studiato perché non si sono guardati addosso perché hanno giocato con la logica del nemico invece che giocare con la logica della verità comunque dalla libertà è nata la liberal democrazia dall'egalità è nata la social democrazia la fraternità si è persa per strada la fratellanza si è persa per strada si è persa per strada e però bisogna riuscire a realizzarla e la sua etica è un'etica che non è difesa neppure dai diritti dell'uomo i diritti dell'uomo sono stati formulati prima in America poi in Francia ma i diritti dell'uomo non servono a niente se i diritti dell'uomo sono i diritti dell'uomo occidentale che dimenticano le differenze abissali che esistono tra gli umani prima cosa basta questo universalismo universale che pensa di poter raccontare lui la storia quando la sua è una storia tra le molte che sono possibili secondo i diritti dell'uomo non si sono mai fatti carico degli enti di natura e quindi non servono a niente se non ti fai carico degli enti di natura anche i cari diritti dell'uomo servono solo a riconfermare il principio antropocentrico poi c'era Kant che parlava di pace perpetua ed è un bellissimo testo 40 pagine che naturalmente nessuno più sa che l'ha scritto guardate a me mi voglia di non parlare più perché dico cosa parli che tanto nessuno sa e nessuno sa solo perché si fa fatica ad aprire un libro solo perché quello che sa la gente oggi lo sa perché l'ha sentito perché l'ha visto ma non perché l'ha letto guardate che la morte dei libri è la morte della cultura è una società senza cultura non può che vedere il suo declino punto a capo punto a capo la pace perpetua dice Kant è possibile solo se si eliminano gli stati perché lo stato è il regime della massima violenza garantisce la pace al suo interno e fuori di lì è subito guerra e poi vive di una logica che non è funzionale alla salvezza della terra che è la logica del nemico perché la logica cosmopolitica o della fratellanza stabilisce non uccidere lo stato limita il non uccidere all'interno dei suoi confini poi fuori subito guerra la logica della fratellanza o cosmopolitica dice i beni della terra sono a disposizione di tutti gli uomini la logica dello stato dice prima gli italiani non va bene la logica cosmopolita dice che bisogna integrare i diritti della natura nei diritti dell'uomo la logica dello stato dei diritti della natura non se ne è mai occupata vedete com'è lo stato lo stato della nostra terra anche solo della nostra Italia un disastro bene e allora se le ferite della terra riguardano l'uomo come membro della specie o membro dell'umanità allora bisogna procedere ad un'educazione profonda affinché la gente interiorizzi che da salvare non è la sua patria ma è la terra sua vera patria perché fino a prova contraria potremmo anche arrivare su Marte ma per il momento l'unico posto in cui possiamo vivere è qui è qui del resto i confini dello stato sono già stati ampiamente superati sia dalla tecnica sia dal mercato la tecnica non è mai stata confinata in uno stato le ha sempre oltrepassate i confini con assoluta indifferenza il mercato non è mai stato in uno stato le multinazionali hanno sbancato tutti i confini di tutti gli stati ci sono multinazionali più ricchi degli stati non c'è mai stata una ricchezza determinata all'interno di uno stato è sempre stata una ricchezza universale prodotta attraverso il mercato dove le merci sono più libere degli uomini nella loro circolazione oggi e allora che cosa succede in un contesto di questo genere succede che alla ragione di stato dobbiamo sostituire la ragione dell'umanità questo è il passaggio che bisogna fare e però per poterlo fare non dobbiamo farlo sulla base dei valori perché i valori dividono gli uomini ogni persona ogni tribù ogni entità ogni popolazione ha i suoi valori che sono il luogo della sua identità e della sua appartenenza quindi sul piano dei valori non arriveremo mai a Duna allora dovremo lavorare sul piano degli interessi è interesse di tutti salvare la terra e allora come nel cinquecento si è cominciato a ipotizzare che era bene che i singoli individui rinunciassero una parte di libertà per darla allo stato così adesso è necessario che lo stato rinuncino gli stati rinuncino alla loro sovranità perché altrimenti un'ecologia della terra non si potrà mai fare sotto questo profilo gli stati sovranisti sono contro la salvezza della terra ricordatevelo bene ogni principio di sovranità è un principio contro la terra non ve lo dimenticate questo si può fare si può fare si può fare questo passaggio teoricamente sì perché come l'uomo sì ricorrendo a quella che Ernesto De Martino chiamava l'etica del trascendimento Ernesto De Martino è un grande antropologo che ha lavorato negli anni 50 e 60 in Italia meridionale spero che qualche libro qualche suo libro lo leggiate se non altro per sapere quello che era l'Italia a quell'epoca lì quando l'istruzione la gente che era in grado di leggere era il 10% della popolazione adesso invece sono capaci tutti di leggere ma l'Ox ci dice che gli italiani il 70% degli italiani sa leggere ma non capisce cosa legge perfetto siamo tornati all'epoca Ernesto De Martino parla di etica del trascendimento la parola trascendenza ha a che fare a una tonalità religiosa ma Carly Asper che è stato il più grande psicopatologo del novecento e anche filosofo ci ha insegnato che c'è anche una trascendenza immanente cioè si può già su questa terra senza pensare a vite e ultraterrene già in questa terra è possibile passare da una situazione ad un'altra trascendere la situazione attuale per accedere ad un'altra situazione desituarsi dalla situazione attuale per andare in un'altra situazione ci ha insegnato Carly Asper perché l'esistenza umana a differenza dell'esistenza animale lui la definisce una möglige esistenza un'esistenza possibile ha la possibilità di trascendere di cambiare e come si è evoluto biologicamente l'uomo non è non è da negare che abbia la possibilità di evolvere anche culturalmente dal resto lo stesso Nietzsche che di etica del viandante se ne intendeva dice che l'uomo è un animale non ancora stabilizzato e quindi c'è la possibilità di evolvere culturalmente il problema sono i tempi altro che 2030 2050 la terra è già finita allora perché le evoluzioni culturali sono le evoluzioni più lunghe le più difficili però almeno fino a lì dobbiamo attendere perché se non evolviamo culturalmente dalla logica del nemico alla logica della fratellanza se non andiamo oltre le nazioni per capire che la terra è la terra da difendere non la nostra patria se non capiamo queste cose se non le insegniamo se non ci muoviamo i ragazzi cominciano a dirlo lo urlano anche e fanno bene ad urlarlo ma non hanno un solo elemento di ricatto per questa società adulta che pensa solamente a se stessa e nell'arco breve della propria vita come fate ora chiudiamo con questa affermazione gli eventuali diritti dell'uomo devono integrare anche i diritti della natura il modello noi ce l'abbiamo San Francesco quando chiama fratello sole fratello luna sorella luna sorella acqua fratello vento include i diritti della natura nei diritti dell'uomo e come la logica del nemico ci ha fatto fare un'evoluzione dalla clava alla bomba atomica non è ipotizzabile anche passare dalla logica del nemico alla logica della fratellanza lo so che è un pochino più difficile perché il nemico stimola la fratellanza impegna però questa strada la dobbiamo fare grazie grazie a tutti grazie a tutti